Ci troviamo oggi qui per festeggiare l'apertura avvenuta il primo di dicembre di questo fantastico negozio in un contesto altrettanto fantastico. Sono circa 3.000 metri quadri di punto vendita duty free, il più grande al mondo in Europa e per la Gardère il più grande al mondo. Quindi sono particolarmente emozionato, questo per noi è un segno, vuole essere anche un forte segno di quanto la Gardère crede nello sviluppo del travel retail. Ed è la più grande testimonianza di ripresa, resilienza, di slancio, di reazione che l'aeroporto in partnership con la Gardère poteva dare. È un segno muscolare importante di rilancio, proprio per la sua dimensione, per la sua qualità, per gli elementi di innovazione ma anche di sostenibilità che questa offerta porterà. Ed è anche il frutto di una partnership ormai lunga, che ormai conta circa 10 anni di storia con la Gardère, che appunto è la testimonianza più tangibile e concreta di quella che abbiamo qui nella nostra storia. Grazie! 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 Grazie!